buongiorno buongiorno a tutti carissimi bentornati in questa nostra rubrica del giovedì mattina una settimana d'ordinaria follia oggi è giovedì 29 giugno 2023 e fra un secondo entreremo nelle notizie più importanti deliranti esplosive in tutti i sensi della degli ultimi giorni ma che che vi posso dire è una settimana che io riassumerei con una metafora chicago di notte è meravigliosa ma lo vedremo alla fine quando parleremo delle comiche 3 2 1 sigla vai vai con la sigla allora fanciulle e fanciulli partiamo dalla salute quest'oggi partiamo da dal nostro corpo dalla tutela del nostro corpo della nostra vita del nostro benessere la verità la verità ci fa sapere che haifa non ha i dati sui vaccini non li ha e che cazzo gli serve ma cosa servono i dati titola qualche giorno fa la verità incredibile confessione di haifa non abbiamo i dati sui vaccini la farmacovigilanza si ferma maggio 2022 non siamo in grado di dire quando verrà aggiornata il portale europeo e udra e udra vigilance riesce a fare ancora peggio vabbè ma comunque ci siamo un po abituati e ormai alcuni di noi hanno fatto veri anticorpi ha il sistema di potere generale altri cercano ancora anticorpi dove forse ci sono gli ultracorpi più che altro l'altro giorno visto non so se l'ho riportato mi pare di no comunque ve lo dico così al volo ho visto l'articolo dove spiegavano che l'esplosione di tumori degli ultimi anni è causata dal cambiamento climatico e da tante altre cose come abbiamo visto vi ricordate avevamo fatto un intero video su quel che ci riportava l'informazione disinformazione rispetto all'esplosione di infarti c'è stato un aumento di infarti soprattutto fra i calciatori dove abbiamo dati un po più oggettivi perché sono più monitorati sappiate che gli infarti li causa di recente la pizza margherita fare l'amore aprire la finestra d'inverno chiudere la finestra d'estate il condizionatore ti ammali uccidimo bene andiamo avanti imola oggi bassetti contro il dottor de donno medico divisivo e chi lo celebra sbaglia bassetti bassetti matteo bassetti ha criticato la decisione di presentare alla camera dei deputati il premio de donno 2023 ora non posso non posso esprimervi ciò che porto nel cuore rispetto a certe persone non posso però se alcuni di voi hanno una certa sensibilità e affinità ormai con il sottoscritto il mio lavoro immaginatevi allora bassetti dice che de donno è stato un medico divisivo una persona che ha unicamente cercato di proporre una cura in una educazione estrema pacatezza gentilezza umiltà e quest'uomo non è stato divisivo non ha detto tutto il contrario di tutto quindi a volte specchio riflesso si è rotta vi ricordate da bambini specchio riflesso si è rotta la canna da c'è andiamo avanti comunque non posso dirvi che cosa provo verso certe persone va bene qua ci fermiamo con la salute perché potrebbe venirmi male a questo punto ed entriamo nella politica allora per quanto riguarda la politica ho questo pezzo ho un pezzo interessante vediamo se riesco scusatemi ma c'è stato un problema tecnico eccolo qui ok il pezzo è questo è un pezzo molto bello di vincenzo costa che sposo in pieno si parla spesso di boomer e di rottura generazionale beh oltretutto molti giovani conoscono solo questo termine i boomer sei un boomer sarebbero i figli del boom noi come generazione io teoricamente appartengo alla generazione x ecco proprio x sparita non sanno che esiste e noi invece esistiamo come ponte fra il mondo boomer e il mondo di questi che hanno fatto boom speriamo di avere appunto una funzione ponte e di risveglio comunque stiamo ai boomer si parla spesso di boomer e di rottura genitoriale e in effetti non l'avrei mai scoperta se non ci fosse stato facebook penso ora che invece vi sia che sia radicale drastica per esempio riguardo al termine sinistra e alle politiche in generale chi è cresciuto nella sinistra storica nei partiti di massa della prima repubblica rappresenta una cultura che per i giovani di sinistra di adesso è di destra veramente ve l'ho detto molte volte anche in questo mio viaggio personale nel mondo della riflessione filosofica sulla politica quindi diciamo più è una filosofia politica mi sono trovato in posizioni durante il 2000 2001 2002 sino al 2010 posizioni più le avrebbero definite coloro che amano definire tutto nella loro ignoranza totale di sinistra adesso vengono definite di destra datevi una regolata ragazzi soprattutto ragazzi rileggete un po la storia le posizioni reali di una certa sinistra io la definirei quasi intellettuale realmente intellettuale spirituale per certi versi una sinistra di dello spirito che si è un po ossimorica la cosa ma lasciamo perdere chi è cresciuto nella sinistra storica nei partiti ma non solo nella sinistra storica io semplicemente facevo delle riflessioni umane umane spirituali addirittura e vennevi visto subito come un sinistroide strano bastava parlare di spiritualità meditazione unità della vita la vita da un punto di vista anche biologico inscindibile figuratevi ancor più da un punto di vista della coscienza sei uno strano di sinistra fumi le canne ti fai le gibbe cose così adesso dice le stesse cose e sei tendente al fascismo sei un pericoloso sovranista confusione rappresenta una cultura che i giovani di sinistra di adesso definiscono di destra credo che così si percepiscano e va bene così naturalmente i giovani di sinistra di oggi e la loro cultura viene avvertita da noi probabilmente a torto come ruffiana liberale nel senso deteriore ruffiana ma proprio come quello che abbiamo visto prima no cioè lui prende i premi un altro che è morto addirittura non li merita è divisivo l'altro è divisivo è tutto così una ruffianeria un'ipocrisia aberrante vabbè però sapete che la scimmia più sale più mostra il culo e alla fin fine a me sembrano avere come ideale dell'emancipazione la pelosi non è una la pelosi la politicante più che politica del governo pisolo ma è certamente un errore di prospettiva è certo nel passaggio generazionale qualcosa si è rotto prima ancora che nei modi di pensare si è rotto sai quante cose mi si sono rotte si è rotto nei modi di sentire di abitare il mondo non bisogna ostacolare questa tendenza il futuro è loro e lo devono costruire loro io penso saranno le prime vittime del mondo che desiderano che desiderano poveretti che illusoriamente gli fan credere di desiderare e che stanno costruendo no anche qui piccole mie personali visioni che gli fanno costruire senza che si rendano conto perché non lo abitano e non sono consapevoli comunque che gli stanno costruendo che gli stanno facendo costruire ma se ho il diritto di pensarlo forse non ho il diritto di ostacolarli no no ma infatti ostacolarli no però parlare assieme magari condividere un po' di idee visioni quello sì noi dobbiamo iniziare forse solo essere contenti di aver vissuto in un mondo così diverso da loro ecco qua non sono d'accordo perché anche il mondo di prima era abbastanza cazzaro però vabbè e non son contento io me la son scampata andava bene perché probabilmente se fossi nato ora o 10 15 anni fa 20 anni fa avrei subito delle pressioni estreme rispetto a quelle che ho subito io nei miei tempi noi molti di noi nei nostri tempi spero sempre mi racconto che la mia consapevolezza già nei primi giorni di vita era sufficientemente centrata per resistere non lo so lo spero per il futuro e per magari la prossima vita che mi capiterà perché vincenzo vincenzo non è detto che non ti capita di dover rinascere nel mondo che questi ragazzi avranno costruito inconsapevolmente quindi occhio amorevolmente condividiamo pensieri visioni cerchiamo di restare umani come diceva il buon vittorio arrigoni ok chiude dicendo permettere a loro di costruirsi un mondo diverso da quello che abbiamo amato e per cui abbiamo speso tempo ed energia insomma dobbiamo lasciare che sia lascia che sia accettare che non amino il mondo che abbiamo amato capita gli anni della vecchiaia sarebbe sciocco passarli a polemizzare con loro certo non a polemizzare ma a condividere sa va sandir demovanti demovanti comiche no cosa abbiamo combinato salute politica costume società allora per quanto riguarda la dimensione intima psicologica profonda alla formazione dell'educazione alle emozioni i sentimenti alla sessualità ecco qua che cosa riescono a proporci questo è un articolo che ci riporta il primato nazionale c'è un articolo del daily mail che ci riporta il primato nazionale e quindi non è venuto fuori da una cricca di complottisti il daily mail salvo che non sia complottista roma 19 giugno sono passati un po di giorni però l'ho recuperato adesso sermoni gender e lgbt siete stati brevi per lgbtq alfa beta più sesso analise insegnato a scolari di 12 anni e masturbazione come compito a casa assegnato a bambini di 8 cioè io ho capito di avere il bisellino molto più avanti però sapete la società oggi è più veloce quindi se continua così smart cool e trendy a 2-3 anni ti chiederanno di andare in un bordello è quanto emerge da uno scoop del daily mail che ha portato alla luce l'esistenza di materiale didattico grafico incluso un manuale di educazione sessuale per preadolescenti distribuito ai minori nelle classi di ogni ordine e grado di tutto il regno unito ora se volete trovate questo articolo è lungo mi fa solo girare le palette oliche gender a scuola nel regno unito sesso da quelle parti masturbazioni insegnanti bambini lo scoop tutto è partito dalla segnalazione questo è forte la segnalazione di una madre a cui era stato negato di prendere visione del programma delle lezioni di relazioni ed educazione sessuale rese obbligatorie tre anni fa del ministero dell'istruzione impartita alla figlia di 15 anni cioè il genitore non poteva vedere il materiale il contenuto che veniva veicolato nelle lezioni la donna si era quindi appellata a un giudice grande questa ma ve la rendete lei grande ma grande follia del sistema che ormai sta diventando prevaricante abusivo abusante fuori di test io non lo so ragazzi la donna si era quindi appellata un giudice che le aveva negato l'accesso al materiale scolastico in questione è intervenuto a quel punto cioè il giudice giudice ma che cosa fai la sera a quel punto è intervenuto il daily mail rivelando la presenza online dei discutibili quanto inquietanti risorse didattiche i contenuti si va da consigli rivolti a ragazzine di 12 anni su come raggiungere l'orgasmo e su come ottenere piacere da sesso anale orale a teorie che illustrano come i bambini in età prepuberale possono già provare attrazione sessuale per qualcuno passando per le ormai classiche teorie sul gender diverso dal sesso biologico e il non binarismo libri da colorare parole crociate lgbq alfa beta gamma e fumetti prodotti degli insegnanti attivisti attivi insegnanti attivisti invece di essere attivi nel cervello sul piano emozionale no hanno trasferito le emozioni nella sessualità e nell'ideologia guardate vado avanti vado avanti tanto per farvi capire vorrei farvi vedere fan page che ci propone emma marrond un marroni gli uomini della mia generazione sono deboli spaventati indecisi hanno paura delle donne autonome e forti è come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo sono ancora nello stesso punto di prima ma come nello stesso punto di prima ma mettetevi d'accordo quel cervello che avete tu canta per favore canta se mi pare che canti questo ma lasciate per ma perché vedete che è tutto incrociato nella stessa linea di propaganda ideologica allora se sono al punto di prima come sono spaventati indecisi deboli ma non ce li descrivevano trogloditi con la clava violenti abusanti maschilisti chauvinisti non so le avevano tutte fascisti sovranisti ok ma se adesso non vanno bene perché sono indecisi spaventati hanno paura delle donne autonome forti però anche prima dicevano che avevano paura delle donne forti per questo le aggredivano a due palle non se ne può più allora secondo me se c'è un cambiamento è normale che le posizioni siano un po più confuse per fortuna c'è un il tentativo di comprendersi di trovare diversi piani nuovi piani e un cambiamento era necessario e bisogna continuare a lavorare ma su un vero cambiamento profondo d'amore di consapevolezza questi sono dei propagandisti violenti aggressivi tendenti all'ignorante perché dire queste scemenze oltretutto fatti due domande gli uomini della tua generazione ma gli uomini che hai conosciuto tu cosa sei gli hai conosciuti tutti mai hai fatto degli studi delle statistiche il guaio è che continuano a propagandare un'immagine dell'uomo etero perché poi se gli uomini della sua generazione inizia a focalizzare quelli lgbtq alfa beta sono sicuramente intelligenti smart cool trendy eccetera ovvio allora continuano a propagandare l'idea di un uomo etero allo sbando inutile stupido prima non andava bene adesso non va bene se adesso è più sensibile più confuso non va bene e l'altra cosa scusate ma è anche la donna donna che sogna magari di essere madre di avere una relazione con un uomo fare famiglia senza nulla senza giudicare criticare chi segue altre strade chi vuole rimanere single chi non vuole avere figli chi è omosessuale ma me cioè che problemi volete che mi crei mi crea solo un problema notare come stanno cercando di massacrare dissacrare demolire un certo tipo di divisione della vita di relazioni che sono per una certa secondo me classe tipo c'è una certa elite disfunzionali al loro progetto e questi soggetti inutici veramente come cantante non lo so ma continuano a prendere personaggi privi di profondità di competenze filosofiche psicologiche umanistiche e li fanno parlare ovunque e creano un condizionamento potentissimo sulle nuove generazioni poi aggiungete che abbiamo addirittura insegnanti attivisti nelle scuole alla fine viene fuori anche la donna come madre nella sua maternità nella sua possibilità di generare e nel suo magari desiderare una relazione con un uomo viene fuori demolita questa figura quindi sostanzialmente demoliscono la figura dell'uomo della donna etero del madre della madre e del padre e del concetto di dio e adesso vediamo la repubblica tutti felici guardate qua continuano a buttarle fuori queste cose bergoglio non pervenuto parla di migranti di barche che affondano non so bergoglio ti aprivi un ong facevi dei lavori sociali ma non una chiesa cioè hai un altro compito non pervenuto non dice mai niente di niente non è che deve fare le crociate dovrebbe semplicemente reindirizzare il cattolico verso il nucleo del cristianesimo il cattolico non è che devi andare a prendere un omosessuale ateo o che crede nei pinguini volanti e trasformarlo in un cattolico eterosessuale assolutamente no stai sereno nessuno ti sta chiedendo questa cosa comunque la repubblica montagna stop croci in vetta anacronistiche e divisive ma porca paletta eolica è divisiva anche questa del donno che con amore ha provato è divisivo la croce è divisiva ma siete fuori di cabina poi arriva la santa anche se è lei che deve difendere capito bergoglio in che mani ci lasci non si toccano e hanno fatto di nuovo lo scontro politicante becero inutile ho ascoltato mesner che saltava fuori dicendo non deve divenire uno scontro politico ma non rappresentano la maggior parte delle persone io sono stato in altri paesi non esistono in nepal non hanno croci non ci sono elementi religiosi perché hanno troppa troppo rispetto per la sacralità della montagna ma cosa stai dicendo forse non terra non ti sei accorto che in tutta la zona tibet nepal mongolia tutte quelle zone con influenze dal buddismo induismo al allo sciamanesimo trovi tutta una serie di edificazioni ad esempio in alcune zone si usano le piccole piramidine di pietre e su quelle pietre vengono lasciati soldini le sciarpine quelle tipiche del buddismo cioè le ho viste io sono stato io in quei posti forse tu non distingui una croce da una piramidina però allora nelle zone buddiste salvo che i cinesi non finiscono il loro lavoro di dissacrazione e distruzione ci sono dei simboli del buddismo mesner a mesner do sta in molte nostre montagne lui ha detto sono solo sulle alpi le croci e vabbè lasciale lì cioè non lo so non rappresentano più nessuno certo se andiamo avanti così fra un po ci sarà un vibratore un sex toys un cunnilingus sulle montagne curatevi ragazzi curatevi il presidente montani precisa nessuna posizione ufficiale solo dichiarazioni personali del direttore editoriale marco albino vabbè intanto però vedete il sistema non sono posizioni ufficiali ma ne parlano tutti i giornali continuano a ribattere dalla mattina alla sera poi incroci emma marrone incroci quello che insegnano a scuola si finirà bene e non credo e allora dopo possiamo riprendere le parole che abbiamo sentito prima di adesso mi sfugge il nome vediamo se riesco di vincenzo cost quando ci dice non credo che finirà bene questa costruzione sociale ma che ci possiamo fare ok costume società chiudiamo costume società con il livello di profondità di spessore di due soggetti fra i più celebrati dal sistema di informazione ufficiale sto parlando di elon musk e zakenberg o zucchina berg elon musk elon musk sfida zakenberg a las vegas potrebbe andare in scena l'incontro del secolo scusate qui sono io che ho aggiunto idiocracy perché questi sparano queste menate ma andate in ucraina a lavorare un po' andate lì in mezzo nel donbass che secondo me tornate più sereni più più saggi quale quale sfida a las vegas cioè si sono lanciati una sfida di 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 box di 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 lotta cioè questi dicono queste cose così e avevamo già sentito addirittura zelensky dire io sono pronto a sfidare putin in un incontro in un combattimento perché qualcuno forse stato elon musk gli disse risolve risolvete la cosa fra voi due chi vince ha vinto la guerra asilo nido idiocracy asilo nido ragazzi però questi dietro hanno miliardi potere altri hanno addirittura testate nucleari andiamo avanti così va bene verso la chiusura verso la chiusura con la guerra il tempo ci racconta che ucraina i russi usano delfini ucraina vuol dire che ce l'hanno detto gli ucraini cioè tu vai a prendere le informazioni di una parte in combattimento saranno sicuramente oneste sempre pulite i russi usano delfini ammaestrati contro i sommozzatori le immagini degli 007 ci hanno preso le immagini di un delfino che gira e quello un delfino russo però questi russi non ne imbriccano una perché magari se quei delfini ammaestrati fossero riusciti a bloccare i sommozzatori che hanno fatto saltarinare il nord stream 1 e 2 saremmo tutti più contenti poi prima che arrivasse il golpe bianco di Prigojin e tutta la narrazione venisse offuscata e entrassi in confusione ci stavano dicendo ad esempio il tempo guerra in ucraina anche Zelensky ammette il flop controffensiva lenta poi abbiamo un altro articolo qui controffensiva ucraina gli usa avvertono Zelensky aspettative insoddisfatte cioè è molto suona una sorta di minaccia questa non sei riuscito a fare quel ciò per cui ti abbiamo pagato stai molto attento forse non gli è riuscito bene il titolo al tempo è perché dietro Zelensky non ci sono gli stati uniti no 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 obama alla cnn ne ha sparata una ma ormai le dicono la gente a casa sembra che non capisca non lo so la lingua i concetti la logica di certo non lo so perché sentite qua cnn obama in un'intervista ha detto che è stato solo grazie a lui alla merkel che l'ucraina è stata in grado di prepararsi alla guerra con la russia dice beh sai penso che l'ucraina in quel tempo non sia l'ucraina di cui stiamo parlando oggi grazie a cacchio quella di oggi è distrutta con 300 400 mila morti quella stava benino io e la merkel a cui rendo un enorme omaggio abbiamo dovuto coinvolgere molti altri europei spingendoli a forza e urlando contro di loro per imporre le sanzioni che abbiamo imposto e per impedire a putin di attraversare il donbass verso l'altra parte dell'ucraina cioè rovescia il principio alla fine ma comunque contento lui premio nobel per la pace e trump era invece un pazzo che era pronta ad aggredire il mondo gli unici quattro anni dove è stata tirata una bomba the mother bomb in mezzo al deserto perché quello sapete gli americani hanno dei disturbi ed è stato ucciso il generale solemani il capo delle guardie iraniane vabbè un morto comunque rispetto a un milione due milioni che è la media dato lo stato dell'ucraina all'epoca e lo stato della mentalità europea abbiamo mantenuto la linea bravo e parte di ciò che è accaduto nel tempo è stata l'emergere di un'identità ucraina il desiderio di combattere contro la russia l'opportunità di prepararsi militarmente per resistere alla pressione alla pressione sai che pressione che mi sale gli abbiamo pompato i muscoli e questo ha permesso loro di difendersi o forse avete messo una tale zizzania che ha permesso l'esplosione della guerra vabbè poi c'è stato il fattaccio del golpe più bizzarro della storia di prigogine la stampa ci ha fatto ridere perché alle 12 e 39 del giorno del golpe del giorno dopo perché un golpe che è durato 24 ore e non è andato da nessuna parte salvo andare a 200 chilometri da minsk scusate da kiev cioè prigogine doveva essere a 200 chilometri da mosca pronto a prendere mosca non si sa come perché 200 chilometri da mosca come ci arrivi nelle tubature del gas cioè dovrai con i cingolati le macchine eccetera percorrere le strade principali gli altri hanno l'aviazione hanno i missili personici non sarebbe arrivato nessuno voglio dire veramente è una storia incredibilmente bizzarra non so ci sono tante cose che non tornano e quindi ci saranno tante strane motivazioni complesse e nascondimenti giochi eccetera ciò che fa ridere sempre la nostra informazione allora il giorno prima prigogine la wagner sono passati da essere una milizia spietata di assassini stupratori di neonati ad essere dei paladini della giustizia perché stavano andando verso mosca quando hanno visto che non sono andati da nessuna parte dopo 24 ore ecco l'analista della cnn che dice prigogine potrebbe essere assassinato in bielorussia ovviamente col polonio il veleno eccetera alle 12 e 45 c'è dieci minuti dopo la prima informazione la stampa dice generale gran bretagna prigogine potrebbe guidare l'attacco all'ucraina da minsk ora a minsk lukashenko in connessione telefonica con putine lì che dice lo mandiamo a kiev a fare un disastro o lo uccidiamo con il polonio sono ancora lì che discutono secondo la cnn e questi dotti esperti comiche siamo alla fine allora questa qua ve l'ho già fatta vedere ma secondo me è un capolavoro di satirico e allegorico veramente spam continuano a chiamarmi 150 è una società è uno spam questa società questo è un capolavoro abbiamo il profumo di colonia la mellons che mello sbaccia a tutti c'era il film viola bacia a tutti mello sbaccia a tutti e ho detto a letta fantastico questo qua è un capolavoro di matteo brandi credo l'ha fatto lui ecco questa è la generazione non credo che arriveranno a questa età così gagliardi ma la generazione di oggi se continua così all'incirca la vedremo in una casa di riposo nel 2050 in queste condizioni ma non credo che vi permetteranno né di fumare né di bere e forse forse no forse di stare scollati e fare qualche orgia quello sì questa desidero sempre riportarvela perché l'ho già fatto diverse volte ma è la sintesi perfetta di quello che stiamo facendo in troppi in tanti vede c'è il carcerato che riesce a sfondare il muro della sua cella e poi sotto lo vediamo con un condizionatore uno split attacca lo split al muro e c'è scritto la maggior parte delle persone non combatte per la propria libertà ma per una prigione più confortevole mamma mia e vorrei chiudere con questo con questa immagine che veramente questa riassume questa settimana per me stavo cercando attraverso instagram facebook qualche genialata qualcosa di buono e questa è la cosa più interessante più divertente più ridicola che mi ha fatto ridere che ho trovato c'è tutto il resto pensate a che livello stava chicago di notte vi mando un carissimo abbraccio ancora spam vorranno vendermi qualcosa di amazon non se ne può più fra un po mi ritirerò in una grotta vi mando un carissimo abbraccio noi ci vediamo sabato mattina con la rubrica 5 minuti oltre le nuvole scrivetemi fatemi sapere se vi piacciono quei frammentini che ho pubblicato questa settimana cioè le pillole di riflessioni praticamente sono prendo i passaggi più secondo me significativi dei miei lunghi video e creo un mini video può essere dato che sapete che oggi molte persone hanno un'attenzione che va dai 30 ai 60 secondi grazie alle stories ai come si chiamano i vabbè insomma tutte quelle gli affarini di instagram tiktok eccetera magari li agganciamo con un minutino e poi vogliono approfondire si trovano video di un'ora invitano alla meditazione al ritirarsi nei boschi eccetera vi mando un carissimo abbraccio spero di avervi reso un po più leggera la demenza di questo tempo di questa idiocrasi ci vediamo sabato mattina ciao fanciulli e fanciulle ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti